Cosa ci sta facendo in casa nostra? Ma infatti cosa fa? Em, beh, io ecco, em, i miei occhi sono ovunque, ahahahah Ma, scusa Chiara, questo è un deficiente comunque, cioè, non è, non è normale Infatti, ma è scomparso, poi come parla? Infatti, certo che però anche te sei deficiente, ti eri bloccata per un attimo lì, cosa stavi facendo? Ma come, ma sei serio? Sì, ti eri bloccata per un attimo, cosa ha fatto in casa nostra, scusa? Ma allora, vedi che comunque è strano, cioè nel senso non sono solo io a dirlo È veramente strano, cioè nel senso, cosa ci stava facendo in casa nostra? Non sembra aver toccato nulla Non è che ha chiesto qualcosa? No, no, e infatti, non sembra aver toccato nulla comunque Però può essere che magari abbia fatto qualcosa, non ne ho idea Abbia conturato qualcosa magari Eh, esatto, vabbè, scendi giù, usciamo che se no poi dopo Ah, eccoci qua Allora, usciamo Eccoci qua, usciamo Allora, dobbiamo andare un attimo a cercare gli altri Amici, amici Gabri È tornato Sì, sono tornato Perché te ne sei andato via? Eh, avevo paura Avevi, e tu, nel momento del bisogno ci abbandoni così, vero? Ti lasci in due Eh, scusate, amici, però avevo paura Ti caghi addosso così, scusa? Ti caghi addosso così, poi dopo Cioè, nel senso, è il modo di fare, Gabri? Eh, non volevo Eh, lo so Mannaggia a te, guarda Io non voglio nemmeno dire, guarda, cosa ti farei in questo momento Ma proprio non ho parole, Gabri Mi hai proprio deluso, guarda No, non volevo deludervi Eh, a questo momento dobbiamo restare uniti Chiara, non shiftarti più Perché sei in questo momento Mi scusi Comunque, ritorniamo a noi A parte i capelli di Chiara Come ti permetti, eh? Di scappare, brutto puzzone Eh? Scusa, non lo Perché non posso colpirti? Non lo so Credo che è un bug Gabri, perché non posso Io, io veramente Io, io, io Siamo qua su una giungla Su un'isola deserta E io, io Io non ho parole, veramente Cioè, state facendo un disastro dopo l'altro Io ve lo sto dicendo, eh Gabri Eh? Mannaggia a te Ora, chissà perché posso colpirti, eh Chissà Forza, adesso devo andare Eh, chi lo sa, infatti Eh, eh Sai che ha fatto una foresta da solo Eh? Chiara Chiara? No, non intendevo, questo è brutto Eh, come che Magari con il dottore Lo so che hai fatto cose strane con il dottore Non è vero, non l'ho mai visto io Ah, no Si è messo una pozione magari E quindi ora O magari con la creatura O magari con la creatura Chi lo sa No, non è vero No, secondo me sì Allora, puzzone schifoso Vabbè, la prossima volta che vuoi fare cose con il dottore o con la creatura Pensaci due volte perché ci hai lasciato da soli Non ho fatto niente con il dottore Sì, invece Non mentire Non l'ho mai visto, non lo conosco E ti piace pure Cosa? Non è vero? Eh, no, già te Guarda Ha delle fattosie Esatto Non è vero Allora, dai, andiamo Beh, ci sta Naufragati qui su quest'isola Esatto Non c'è nessuna Esatto Pure lui, poverino Deve comunque Trovare del cibo Comunque delle cose Allora Certo Ma io non lo conosco Sì, 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 come no Tutti dicono così È vero Allora Adesso però dobbiamo andare a trovare nuove risorse Perché dobbiamo scapparci da quest'isola Non è possibile continuare in questo modo Non possiamo essere qua Esatto Cioè veramente Se continuiamo a stare qua Poi dopo va a finire che impazziamo Oppure magari il dottore Ce lo mette in un posto brutto Quindi O moriamo Tutti quegli scheletri Pure moriamo Esatto No, non dobbiamo morire Ti ricordi l'ultima volta cosa è successo Altro che scheletri C'erano quei fantasmi orribili Che poi chi caspita erano Quelle ombre Sì, tipo ombre, fantasmi Non so chi caspita erano Oddio sì, erano troppo inquietanti Eh, esatto Ma poi qua questa foresta Che cosa c'è? Non c'è niente Non c'è nessuna Non c'è nessuna fonte di sostentamento Cos'è? Ma infatti Cos'è questo posto? Questa è una spiaggia, vedo Ma non è che qua magari si è spiantata un'altra parte della nave Può essere? Oddio, può essere Ma come? Scusa Guardate Qua ci sono tre pistole Tipo Oddio, vero? E in teoria queste tre pistole Fra l'altro io avevo pure dei caricatori Ok, perfetto Allora, prendete Prendete, mi raccomando Sì, l'ho presa una Va bene Anche i caricatori che trovate sopra Io non so chi ci abbia dato queste cose Però adesso provo ad usarlo Porca miseria, avete visto? Sì, mi sono spaventato Oddio È stato bellissimo Riproviamo perché è bellissimo Ok, sì, esatto Vedete, queste pratiche È bellissimo Esatto Non funziona Non spieghiamo troppe munizioni Perché ci potrebbero servire Io non so chi è stato a darci Queste cose O può essere che magari Non è che è il dottore No, guarda che mi sembra strano Guarda che il dottore Secondo me ce l'ha contro di noi Ah Anche secondo me Perché avete visto Poi era in casa nostra Poi ha detto Quella frase stranissima Ma cosa ha detto? Ne dovevamo parlare Di quella frase stranissima E aveva detto che praticamente Lui ha occhio ovunque Cioè vede ovunque praticamente E poi Ci vedrà per tutto Questo cosa facciamo quindi Esatto Ha fatto una zitta strana E poi se n'è andata In effetti io ora Mi sento anche un po' osservato E io anche un pochettino Magari chi lo sa Dalla foresta Io ho paura sinceramente Eh esatto La paura è la prima emozione Che si sente qua in giro E sinceramente Io non so cosa fare Perché se questo qua ci spia Non lo so ragazzi E infatti Cioè è brutto Cioè è di strano Esatto Poi qua in questa cassa Non c'era niente Ok Cerca Allora Dobbiamo cercare Delle munizioni Di un qualcosa Comunque Che ci possa Diciamo Non delle munizioni Ma appunto qualcosa Che Oh ma quella casa Aspetta finisco di dire la frase Qualcosa che ci permetta No? Di andare via da quest'isola Perché non possiamo restare Eh di scappare è logico Eh esatto Eh esatto Ma poi questa Cosa hai fatto? Ti sei messa davanti a me Perché La prossima volta Che ti metti davanti a me Io ti uccido Chiara Con quest'arma qua In testa ti sparo Ok? Scusami Scusami Ah Sarà meglio Allora Mi fate sembrare veramente Nervosire voi Oh porca misere Vabbè allora Forza Chissà di chi è quella casa Lì in lontananza Non è che è di un altro abitante Di quest'isola Che avevano detto Che c'erano altri abitanti qua Eh Può essere Può essere Chi lo sa Scusate ma avete visto là Ma chi è che c'è? Ma chi? Ma dove? No io ho visto qualcosa là In lontananza Guardate Ma scusate Ma dove? No a me Scusa a me sembra Angelo Ma Gabri? Ma infatti Dov'è Gabri? Gabri? Ma era con noi qui ora No dai non mi dire Gabri Gabri No dai Mi ha scappato di nuovo Aspetta aspetta Andiamo a vedere chi è quello Perché secondo me Quello è Angelo Cioè secondo me Si vede proprio dagli occhi Sì guarda Si vede che È vero Ma cos'è che ha sopra? Mi sembra strano Aspetta un attimo Ma poi questa casa Ma infatti di chi è questa casa? Oddio che carino Angelo è bellissimo È bellissimo È bellissimo Ma è brutto No è creepy No nel senso è bella la casa Ma dico Angelo Ciao Ciao Angelo Angelo non ti senti Angelo Ma è Angelo questo? Ciao 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 Hai problemi? Ciao Ciao come mai No non ti shiftare per carità divina Allora Praticamente Ti avevamo trovato qua Perché noi eravamo qua Dove Come mai tu stavi qua Sul letto Cosa ci fai Cosa ci fai in questa casa? Gua Io non lo so sinceramente Cioè mi sono ritrovato qua Ah qua Mi sembra strano Com'è possibile Sì Non Sì Vabbè ok Allora andiamo Dai forza venite Allora praticamente Se vuoi Angelo Tu vuoi venire con noi Perché praticamente Tu saino che ci hanno spiantati Sì sì Per colpa tua Perché hai scorreggiato Hai scorreggiato troppo forte Sì 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 Ah mi dispiace Non volevo Eh sì Molto brutta questa cosa Ormai Pure che ti scusi Non è che cambia Eh infatti Quindi dobbiamo Dobbiamo per forza Trovare delle risorse Per andarcene da quest'isola Tu vuoi andare via Giusto? Eh sì Ma che ci fate qui Cioè nel senso Eh vabbè Noi semplicemente Ma cos'è sta cosa qua? Ma che schifo No come che schifo C'è una cosa strana Che gira qua indietro A me mi sembra strano Cos'è? Non ne ho idea Vabbè comunque andiamo Angelo comunque Io non ti sento Qua siamo in una giungla Dove saprei che ci sono rami E cose strane Quindi Eh ho capito che ci sono rami Ma Niente Sono solo rimasto sciocato Non credevo che mi potevate trovare Questa Blanda desolata Eh sì Siamo lavorati insieme Eh infatti esatto Non è che c'eravamo Molto distanti Comunque Scusate ma Dov'è che siamo? Cioè nel senso Secondo me noi ci siamo persi Comunque Io ve lo sto dicendo Ma infatti dov'è la strada Per tornare? Non ne ho la più pallida idea Cioè nel senso Aiuto Poi dove Ma raga ma dove è Gabri Perché tu Angelo devi sapere che con noi Ah c'è pure Gabri Gabri e anche nonno tecnicamente Ma non c'è adesso Non so dove sia finito Mannaggia lui Perché pure lui è scomparso Sì 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 esatto E Gabri pure Non so adesso è scappato di nuovo Prima era già scappato Adesso è scappato nuovamente Ma non è possibile Cioè veramente ogni volta Ogni volta che c'è qualcosa di pericoloso Loro scappano no? Scappano come dei codardi Ah ma guarda te Magari stanno pure insieme ora Eh eh chissà perché Fidanzatini Ma Angelo dimmi un po' Tu hai conosciuto Il dottore Dimmi un po' Perché No No Mi sembra strano Perché lui c'era ovunque mi pare Scusa cosa è questo verso qua? Questo rumore Ho sentito qualcosa di strano No secondo gli animali non lo so Però No sto dottore mi è nuovo sinceramente Dottore Non ci credo Non ci credo Allora Guarda che lui aveva detto Allora è strano Allora fidati Se lo hai incontrato Devi stare attento Perché davvero È un dottore un po' strano Devo dire Cioè devo dirla mia Poi non so Tu ci hai mai parlato È strano Sì 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 Dici Certo che però anche te sei strano Mi sembra strano Angelo Tu non me la racconti giusta in questo momento Oh porca miseria Stavo con l'altra volta Attento Vai 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 indietro Aiuto Ragazzi Attenta attenta Chiara Fanno male Fanno male No si fanno malissimo Chiara spostati 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 Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ok brava Oh porca miseria Ma che caspita erano ste robe Di nuovo Non lo so mi è andato questo Ma cos'erano Cos'è? Dammi un attimo Fammi vedere Non lo so golden case si chiama Ok Ma cos'è? È una Rootless crusader si chiama Una roba di questo tipo È tipo una spada Ah dono gli oggetti allora Eh esatto Allora mi sembra già strano per questo Perché praticamente Cioè perché ci danno degli oggetti E come Ecco allora Perché sono spawnati Soprattutto quello Perché sono Perché Perché spawnano sempre ragazzi Questo è il punto Cioè spawnano sempre praticamente Anche la scorsa volta Ange Devi sapere che sono spawnate Di queste strane creature Ma mi sembra strano Perché Non lo so Non dovrebbero spawnare così a caso In teoria Esatto Secondo me c'entra qualcosa Del dottore Non lo so Io ho questa sensazione Beh stiamo parlando di lui Esatto Ma chi è questo Non Lo conosco Cioè Vabbè ok Non lo so Comunque mi sembra strano Perché Questo dottore C'è un po' in tutta In tutta quest'isola Ci ha detto che praticamente Nessuno è mai riuscito a scappare Da quest'isola Anche se anche questo Mi sembra strano Secondo me ha ammazzato tutti E basta Beh direi con quegli scheletri Esatto E non solo Non solo Secondo me questo qua È talmente pazzo Da Non lo so Da avere delle creature strane Abbiamo fatto il giro Ma veramente Sì Allora Raga dobbiamo tornare indietro Mannaggia Mi sembra che era da questa parte Vero Chiara Sì che lo fosse di qua Ok perfetto No perché praticamente Se no poi dopo ci perdiamo di Esatto Guardate abbiamo ritrovato la strada Intanto io mangio le mele Ah sì Non c'era la cassa Con le piccole Ok ok Meno male Poi da qua è semplice Ritornare Ok perfetto Allora Poi quel Gabri Madonna Io veramente Non sopporto Guarda che adesso Sparisce sempre Guarda che inizio a non fidarmi Nemmeno più di lui Io ve lo dico Non è che adesso Non mi fido di Angelo Però devi ammettere Che comunque un po' strano Ogni volta che sparisce Succede qualcosa Ragazzi non sto capendo Ma ragazzi non sto capendo il motivo Ah vabbè Eh Angelo Guarda che sei Vabbè ok Vabbè la sciampena Cerchiamo di fidarci l'uno dell'altro Perché comunque Cioè insomma no Diciamo che Capito Cioè nel senso Sennò il gruppo sta Tutto quanto distante Non è in unito Non è in unito Esatto esatto Angelo Guarda Ma chi lo vuoi Esatto Questo praticamente dovrebbe essere il villaggio Che il dottore ci ha costruito Cioè questo qua Oltre al fatto che Ci ha ospitati sull'isola Ci ha costruito delle case Non so come mai Io non mi chiederei molto Perché comunque Ne ha fatte lui Magari c'è qualche trappola Qualche telecamera nascosta Esatto esatto Ma poi perché c'è un anime qua Vabbè non voglio sapere Ma infatti Questa dovrebbe essere casa di Chiara È per questo che magari c'è un anime Ma ok vabbè Ma vuol dire che mi conosce allora Scusami Eh esatto esatto E questo è il punto Cioè secondo me ti conosco Perché anche a me ha messo delle cose Che a me piacevano Ho preso il maialino E il maiale Sì me lo ricordo Esatto esatto Angelo Tu intanto vai a trovare La tua casa Ma quindi non dico che ci scura È casa mia Esatto vai vai Qual è il tuo colore preferito Vai a cercare il tuo colore preferito Ciao Io devo dire una cosa che Chiara Chiara Vieni un attimo No 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 Vieni da questa parte Forza 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 Secondo me è un po' Esatto Brava brava Era questo che stavo cercando di dire Non è possibile Cioè nel senso Allora vieni qua Mettiti da questa parte Allora per me Tipo perché qua non ci vede Ok perfetto Per me praticamente È completamente Non ti shiftare Per l'amore del cielo Allora Per me stavo dicendo Che è molto Ma molto Strano che continui a far così Perché aveva detto Che il dottore non c'era Aveva detto Che Non lo so Che insomma Come se facesse Il finto tonto Esatto Esatto brava Che come Sì esatto Cioè come se facesse Il finto tonto Che non sapeva Eh sì Quindi per questo Chiara Non lo so Secondo me Non era quanto è giusto Esatto Dobbiamo prendere dei provvedimenti Dobbiamo anche spiarli Ma si rumori Chiara Chi è Questa è la creatura di Chiara 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 Chiara